Cobi, la prima volta che ci ho giocato contro, che l'ho marcata, quando ho giocato alla Gold Estate quella è stata probabilmente la prima volta, mi ha rubato palla anche da dietro questo me lo ricordo, pur non essendo un gran difensore e poi che mi ha dato la sua maglia dopo la partita e poi sul palla 2, perché io in quella partita giocavo in quintetto, se non sbaglio sai, saluto quando entri in campo, io sento ciao Marco, come va? in italiano, chiaro tanta roba ti dico, con lui ogni volta, ogni anno, ci siamo visti anche per un evento Nike che ci siamo salutati, abbiamo parlato lui è una persona super e poi lui veramente sapeva tutto di tutti dal punto di vista testistico nel senso che sapeva le cose che io facevo bene a giocare a basket lui era proprio un fanatico del gioco in generale